Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Axel, oggi siamo a Cremona per il secondo giorno di viaggio e oggi, nello specifico, andiamo a vedere il Torrazzo. Via con la sigla! Ok ragazzi, abbiamo fatto un cambio di camera e siamo con la GoPro perché è più compatta e per me, che devo salire in spazi stretti, mi viene più comodo. Stiamo iniziando a salire su per la torre del Torrazzo e iniziamo con le state molto molto interessanti che adesso vi mostro. C'è qua un tipo con una sciabala prendata in testa, così, a caso. Ok, continuiamo. Si prega di rispettare il semaforo. Luce verde, saliamo. Su per le scale a chiocciolo il mio peggior nemico. A parte la nebbia negli occhiali che non ci possiamo fare niente, siamo arrivati al primo piano della torre, se possiamo così chiamarlo. Dopo una scala a chiocciola che era tutta così, a me non piacciono le scala a chiocciola. E poi siamo arrivati, diciamo, al primo pianerottolo. Adesso lo faccio un po' vedere. E' molto bello perché si vede tutta la città dall'alto, anche se adesso è esatto. Così riesco a farvelo vedere. Siamo ancora a più in alto, ragazzi. Qua altrimenti è tutto aperto e fa... esatto. Fa un po' ansia. Però è bellissima la vista. Il problema di base, ragazzi, è che adesso ci dobbiamo ammigliare su per questa scala a chiocciola. E io ripeto che io non mi piacciono le scala a chiocciola, mi mettono ansia. E questa va su. Su tanto! Io, ragazzi, non soffro di vertigini. O perlomeno, un pochino, ma non mi dà fastidio. Io soffro per le scala a chiocciola. A me le scala a chiocciola mi uccidono. Io sono super di qua con una strizza che voi non potete capire. Comunque, siamo arrivati sopra e letteralmente non ci sono i moretti. Cioè, a parte le griglie in mezzo, ma è tutto vuoto e siamo altissimi. Ora ormai è tardo pomeriggio, però ci siamo spostati a Torino e adesso ci dirigiamo verso il Museo Egizio. Ecco come l'andaita. 1, 2, 3, 4 1, Maneskin, Eurovision, Italy Everybody want to see Mafia, Pizza e Mandoli 1, Maneskin, Eurovision, Italy Everybody want to see How is beautiful, Turi Here is the mole Here was the king Pannacotta with Crissini Agnolotti del Plin Thanks, Maneskin, Eurovision in Turin Everybody want to see Bagnacauda e Bicerin Juventus, Torino The Alps, the vino The Sindone, the smoke The park, Valentino I know, Rome is bigger There is water in Venice Milano is richer But Torino is crazy Please, Verragni, come to visit Museo Egizio Because we won't be famous like Uffizi Wanna car? Take a Fiat Wanna bus? Take Tramvia We want to drink, Tourette, bro Want to swim, Liverpool Thanks, Maneskin, Eurovision in Turin Everybody want to see Vita, Tuna with Diarine Thanks, Maneskin, Eurovision in Turin Everybody want to see Giandu Jotti with Tommy All three is Verragni Come to visit Museo Egizio Because we won't be famous like Uffizi Hola You know, It's not as good as I know You can go to see I'm going to receive And I'm going to receive I'm going to be famous like Uffizi And I'm going to be famous like Uffizi Grazie.